In questo video partiremo dal patuancin. Nel primo esercizio si lavora sulla mobilità di polsi, gomiti e spalle. In questa fase si estende la colonna vertebrale verso l'alto e tramite una dolce mobilizzazione della gabbia toracica si attiva la respirazione. Nel secondo esercizio si lavora sulla forza degli arti inferiori e sulla mobilità delle anche. Il collo deve ruotare completamente da destra a sinistra per aumentare la mobilità delle vertebre cervicali. Il terzo esercizio prevede una posizione di equilibrio. Tramite l'instabilità si lavora sulla stabilità. Il braccio che sta su continua il lavoro di estensione e di allungamento dei lati del tronco verso l'alto. Nel quarto esercizio si lavora sulle rotazioni della colonna vertebrale e del bacino. I piedi sono fissi, il bacino ruota il più possibile, le spalle si posizionano sul piano sagittale e il mento si avvicina alla spalla. Nel quinto esercizio la colonna vertebrale viene fatta oscillare e ondeggiare. Vi è una maggiore sollecitazione dell'articolazione delle anche. Il sesto esercizio prevede l'allungamento del comparto posteriore degli arti inferiori e una mobilizzazione in flesso estensione della colonna vertebrale. Nella fase di estensione, quando andate indietro, non staccate gli avambracci dalla fronte. Il settimo esercizio è un lavoro di coordinazione fra gli arti superiori e gli arti inferiori. Si simula una difesa e un attacco a vari gradi di velocità. Nell'ottavo e ultimo esercizio c'è un lavoro di stimolazione della colonna vertebrale tramite la vibrazione generata dal battere i talloni per terra. Questo massaggio della colonna vertebrale viene intervallato da un'accosciata sulle gambe per il rinforzo della muscolatura degli arti inferiori. Ripetete ciascun esercizio otto volte. Vi presentiamo l'allenamento del jang chuan, il palo immobile. Nella prima posizione piegate la gamba anteriore fino a formare un angolo di 90 gradi fra coscia e gamba. Nella seconda posizione i piedi sono disposti a forma di T e il carico è completamente sulla gamba posteriore. La terza postura raccolta prevede le mani aperte, il carico completamente sulla gamba posteriore, ma i piedi formano una V. La quarta postura prevede il piegamento completo della gamba posteriore. Occorre mantenere verticale e allungata la colonna vertebrale. Nell'ultima posizione, che simula il tiro con l'arco, la gamba anteriore forma un angolo di 90 gradi e il tronco è completamente ruotato sul piano sagittale. Pugno che crolla Pugno basso Combinazioni di un singolo pugno Effettuate delle combinazioni per ciascuno dei pugni che vi abbiamo presentato. Variate la velocità Variate il ritmo Serie da due pugni, per esempio Variate il ritmo e l'altezza dei pugni Alto, basso, basso Sempre con lo stesso pugno Oppure potete combinare fra loro vari tipi di pugno Prima di iniziare con le tecniche di gamba Effettuate alcuni semplici esercizi di allungamento muscolare Partite con la flessione del tronco in avanti con i piedi alla larghezza del bacino Se l'esercizio risulta semplice, unite i piedi mantenendo l'estensione delle gambe Potete aumentare l'intensità dell'allungamento muscolare ruotando il tronco a destra e a sinistra Piegate la gamba posteriore Ed estendete in avanti una gamba per volta Afferrate il piede e allungate il tronco in direzione della gamba anteriore La gamba anteriore rimane completamente tesa Le tecniche di gamba Il primo calcio fondamentale prevede uno slancio della gamba verso l'alto Mantenendo l'estensione del ginocchio Il secondo calcio è un calcio frustato Il terzo è un calcio a spinta Il quarto calcio prevede una rotazione sulla gamba d'appoggio Ed è un calcio laterale Nell'ultimo calcio, mantenendo l'estensione della gamba Effettuate un calcio circolare verso l'interno e verso l'esterno Grazie a tutti! Grazie a tutti!